ciao allora oggi vi mostro alcuni prodottini che ho trovato da obs perché sono andata un attimo a curiosare ho trovato la nuova collezione della essence quindi non è tutta perché c'erano solo alcune cose ma le nuove cose le ho prese quindi scontrino alla mano e oltretutto vi faccio vedere anche lo swatch così le guardiamo allora prima cosa che ho trovato e dovevo prenderla è questo primer so che ne sono usciti vari ma c'era solamente questo tipo ne tornerò a vedere gli altri allora questo è il prime studio matti finger poor minimizer quindi con argilla bianca oltretutto stavo cercando la quantità dice di essere made in italy allora 30 ml 4 e 49 è questo qui lo facciamo anche proprio vediamo grigio pure dice essere bianca e grigio vediamo ma texture è leggera si stende anche bene dobbiamo provarlo è profumato però è profumato cosa che non diventa proprio matta comunque se già assorbito poi dopo ovviamente il fondotinta questo è carissimo allora insta perfect liquid make up strong matt effetto waterproof e dual bob coverage quindi dovrebbe essere anche stratificabile la quantità è un quando lo vedrò 30 ml e viene 4 euro e 99 io ho preso il colore 30 fanni questo qui perde già la goccia allora proviamola questo qui vediamo allora non è male come si presenta non è male diciamo che vedo la coprenza un po bassa forse quello che è stratificabile comunque sia è un po chiaro il 30 era il colore più scuro che c'era perché c'era il 10 20 30 il il 30 era più scuro che c'era ed effettivamente si vede un pochino che anche se però una volta asciugato si vede appena appena comunque asciuga subito è messaggio è asciutto quindi è da provare anche questo poi dopo ultimo prodotto delle novità perché c'erano solo questi e questa è la all about silky matt fixing compact power quindi la cipria compatta che però dovrebbe essere illuminante questa è nel colore rosa penso ci sia solo questo 10 grammi 3 euro e 79 che se riesco ad aprirla senza distruggerla eccoci questa qui e non mi dispiace sulla pelle non si vede neanche sono un po luminosa ma neanche tanto no 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 è quasi opaca non mi dispiace allora io amo quella opacizzante bianca che poi non è proprio bianca ma in colore e quelle dell'all about matt anche quelle colorate quindi questa la proviamo sicuramente poi cosa che vi devo far vedere nel mente sto provando il fondotinta che comunque è asciutto e una volta non ossida neanche non vira da testare sicuramente poi ho trovato due prodotti scontati del 50 non potevo lasciarli lì sono questi due che sono gli ombretti in mousse della moonlight c'erano solo questi due ed è il 2 doll face che adesso ve lo mostro comunque li ho pagati 1 euro 89 doll face e questo bello una volta applicato non si vede più la cippa cioè bello sul dito perché si vede che è luminoso è solo luminoso ma una volta che lo stendo non si vede più niente che non si vede niente beh può fare come base per il trucco in teoria speriamo meglio l'altro invece speriamo qualcosa di meglio è il sempre 1 euro 89 questo è il il colore ah qua quattro gilded un dorato questo intanto si vede ok proviamo ad applicarlo da colore anche se una volta sfumato appena appena se tengono con un primer potrebbero fare da base per l'ombretto oppure quando tipo oggi che ho solamente matita in stick e mascara una cosa veloce questo è carino l'altro non si vede niente se ha solo un punto luce va bene comunque allora questo qui era tutto il alla fine ho speso non sembra ma 17 euro e 05 non sembra ma tre novità e due scontati del 50 vabbè questi erano tutti gli acquisti comunque della nuova collezione della essence comunque sia ho visto che mi interessano il mascara che non c'era i correttori che non c'erano e gli altri primer perché voglio provare gli altri due almeno un altro magari se ci sono anche i tester perché questo era una parte un espositore a parte perché era tra le novità se li trovo sicuramente ci torno e vi aggiorno tra questi prodotti comunque fatemi sapere se qualcuno vi interessa ed è quale volete che provo per primo così per recensirlo intanto spero che questo video vi sia piaciuto vi abbiate un po' di compagnia e mi raccomando di mettermi un like iscrivervi al canale e cliccare anche sulla campanella così verrete avvisato ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao